La città metropolitana di Torino ha portato buone notizie ad Avigliana. Il comune della bassa valle di Susa è stato scelto per il più importante progetto finanziato per 4 milioni di euro sulla missione 4 del PNRR, la costruzione della nuova succursale dell'Istituto Superiore Galileo Galilei ed il successivo abbattimento della sede attuale, obsoleta per tecniche costruttive ed impianti con elevate costi di manutenzione e di gestione. La succursale ha sede in via Nicol 2 con accesso secondario da Corsolaghi, in un'area inserita in un contesto urbano di pregio collocata tra il centro storico di Avigliana e la stazione ferroviaria, in un territorio pianeggiante a forma di anfiteatro rispetto ai rilievi che lo circondano. La nuova sede sorgerà accanto a quella esistente, conterrà 26 classi e due laboratori ed il cantiere inizierà a marzo del prossimo anno. I tempi sono strettissimi, obbligati dal cronoprogramma ministeriale, ma la sfida è alla portata, commenta il vice sindaco metropolitano Jacopo Suppo, che ha presentato il calendario dei lavori al sindaco di Avigliana Andrea Archinà e alla dirigente scolastica Rosina Cardinale. Il ruolo di città metropolitana nel coordinamento di questi fondi è davvero fondamentale, possiamo dirlo? Sì, è fondamentale anche perché in quest'area vicino alla scuola ricadrà un altro investimento centrale per la comunità viglianese, il rifacimento di Piazza del Popolo, un investimento da 3 milioni e 900 mila euro, anche qui fondi PNRR, che sostanzialmente si va a inserire in una progettazione condivisa e integrata di un'area centrale, di una città importante per la Valle di Susa, importante per il turismo della città metropolitana, che ospita la Sacra di San Michele, monumento simbolo della regione Piemonte, insomma davvero iniziative importanti in un territorio centrale per la nostra città metropolitana. Sindaco Archinà, in questa succursale a breve cominceranno dei lavori, o meglio non in questa, qui accanto. Avigliana avrà una nuova succursale del Galileo Galilei, è soddisfatto? Sì, grazie al contributo di città metropolitana potremmo intervenire innanzitutto nei confronti degli studenti per migliorare il benessere nei locali della scuola e poi questo intervento si inserisce all'interno di una più ampia programmazione di interventi sul centro cittadino che ovviamente insisteranno sulla Piazza del Popolo e Casa del Popolo, grazie anche in questo caso alla regia di città metropolitana, quindi nel centro di Avigliana atterreranno nel prossimo futuro circa 8 milioni di euro che cambieranno in meglio la fruizione anche del nostro centro cittadino. Il progetto di sostituzione di questa parte di patrimonio edilizio scolastico obsoleto ha l'obiettivo di creare strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti, l'aumento della sicurezza sismica degli edifici, lo sviluppo di aree verdi, la progettazione di ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti locali. La gara e l'affidamento dei lavori a cura di città metropolitana di Torino avverrà entro il mese di settembre, la conclusione dei lavori e il collaudo della nuova scuola entro giugno 2026.